Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli iscrivi che amano passeggiare in lunghe vesti Ricevere saluti nelle piazze Avere i primi seggi nelle sinagoge, i primi posti nei banchetti Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere Essi riceveranno una condanna più severa Seduto di fronte al tesoro Osservava come la folla vi gettava monete E i suoi discepoli disse loro In verità io vi dico Questa vedova così povera Ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo Lei invece nella sua miseria Ha gettato tutto quello che aveva Tutto quanto aveva per vivere Parola del Signore Lode a Teo Cristo Le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati Ci viene presentato dall'Evangelista Marco Discepolo del Beato Apostolo Pietro Questo scrutare di Gesù nel Tempio Nicosa E l'invito ai discepoli, alla folla Al guardarsi dagli scribi Che dovevano aiutare A agevolare il popolo santo di Dio Soprattutto le vedove Quanti avevano problemi di giustizia Quanti avevano problemi di organizzazione della vita Ed essere coloro che applicando la legge di Dio Potevano anche risolvere diatribe Situazioni che potevano verificarsi E insorgere nella quotidianità Invece, con la scusa Di dover loro dirimere alcune questioni Erano di quelli che Si facevano Strapagare Piuttosto che Difendere i diritti Dei poveri Facevano valere I loro diritti E indebitavano Come viene detto Da Gesù Mangiano Divorano le case delle vedove E si presenta Una scena Dinnanzi Al Quartile delle donne Vi erano Dodici Contenitori Delle cassette Delle trombe Delle grandi trombe Di bronzo Che servivano per raccogliere Le offerte Che servivano Per il tempio Per i sacrifici Per l'incenso Per quant'altro servisse E poi vi era Una tredicesima Cassettina Dove non venivano Annotate le offerte Come invece Veniva fatto Nelle prime Dodici Scrivendo Scrivendo anche Chi aveva dato E quanto Aveva dato E c'era questa Tredicesima Cassettina Che era quella Delle lemosine Dove C'erano alcuni Che gettavano monete Ma c'era Una vedova Povera E si Comprende Che fosse Vedova Dal vestito E che fosse povera Anche dal tipo Di vestito Magari logoro Svalcito Consunto E Questa vedova Che getta Due monetine Due leptà Erano E a nota L'Evangelista Marco Fanno un soldo Fanno un quadrante Che era praticamente L'equivalente Di Un decimo Di quella Che poteva essere Una pagnottina Che poteva servire Per Alimentare Magari Quattro persone In famiglia Quindi Una mezza porzione Di pane Che poteva bastare Per una persona Due tre fettine Di pane Diremmo noi oggi Quello era La dote quotidiana Per non morire Quanto meno Era quanto Aveva per vivere Quella vedova Ed è Un po' Emblematico Questo perché La vedova Doveva essere Mantenuta dal Tempio Invece Quella donna Da Quella parte Che poteva servire Per vivere Lei Per il Tempio Da sempre La chiesa Ha visto E ha sottolineato La generosità Di questa vedova Così povera Che dona Tutto Anzi È importante Comprendere Che per La legge Bisognava dare La decima Ed era Obbligatoria La decima Decima parte Di quanto Si guadagnava Ma Se proprio Una persona Era Zelantissima Poteva dare La ventesima Parte Di ciò O meglio La quinta parte Quindi il 20% Di ciò Che aveva Guadagnato E In più Poteva magari Riservare Una ventesima Parte Come Elemosine Extra Ma Non Potevano Fare Di più Non si poteva Fare Di più Era Proibito Proprio Anche Dalla Legge Dalla Legge Mosaica Dalla Legge Farisaica Questa Donna Dà Tutto Tutto Quello Che Aveva Da sempre Dicevo La chiesa Ha visto La grande Generosità Di questa Donna E L'ha posta Come Un esempio E Ci può Stare Sì Perché Dio Ci chiede Di Condividere Con generosità Tutta La nostra Vita Anche Il marito E la moglie Che scelgono Di sposarsi Dinanzi All'altare Del Signore E compiono Quel patto Quel giuramento Quel sacramento Di amore Non danno Una parte Della vita Ma Tutta La vita Così come Un consacrato Una consacrata Un sacerdote Una suora Un missionario Un religioso Una religiosa Una missionaria Danno Tutta La vita Non si dà Una parte Di tempo Non è un Impiego Non è un ufficio Non è un Servizio A tempo Determinato Ma è Dare Tutto Se stessi Non Una parte Dio Si attende Questa generosità Da noi Che deve partire Proprio dal cuore Non è richiesta Nella spontaneità E quando si incontra Dio realmente Nella propria vita L'abbiamo visto Con Zaccheo Ecco Io do la metà Dei miei beni Ai poveri Dal 50% Ai poveri Qualcosa di straordinario Quando Gesù Tocca le nostre vite E le nostre vite Vengono stravolte E chiaramente In positivo Voglia il Signore Toccare i nostri cuori Gesù Ci invita A prendere Sì Di esempio La vedova Ma Di Soprattutto Chiedere a Lui Il coraggio Per Dare una svolta Totale Radicale Nella nostra vita Nella nostra vita Di fede Nella nostra vita Di credenti Nella nostra chiesa Per poterci dedicare Totalmente A Dio E caso mai Finora Questo Non fosse stato compiuto Da parte Nostra O da parte Di chi Come credente Si è magari Accontentato Di dare Quello spicciolo Quel poco tempo Magari Quella mezz'oretta Tre quarti d'ora Di messa Domenicale E questo Magari Ci metteva a posto La coscienza E ci faceva ancora dire Che Fossimo cristiani Autentici Rivalutare Rivalutare i criteri Essere credibili Cristo